Forum Giovani di Battipaglia, programmati 19 consiglieri eletti, li ha incontrati la sindaca francese e l'assessore Giuliano, presso il municipio di Battipaglia, dove si è svolta la proclamazione dei 19 consiglieri, che vanno a comporre il forum dei giovani cittadini, rieletto dopo anni di attese e silenzi. Tutti gli eletti hanno presenziato all'appuntamento carichi d'orgoglio per il risultato ottenuto e con la voglia di offrire tutte le proprie capacità ed entusiasmo al servizio della città. La francese ha chiesto di lavorare all'unisono insieme per portare avanti qualsiasi progetto. Da parte della prima cittadina anche un monito in riferimento ai sette che non hanno ottenuto le preferenze necessarie per l'elezione. Cercate di recuperare anche le persone che non sono state elette. Non siamo fiscali. Che siate 19 o 21, recuperiamo tutte le persone, anche quelle che non si sono candidate, ma che hanno voglia di lavorare. Verrà messa a disposizione per le riunioni del forum una sala all'interno del Palazzo di Città, soddisfatti anche il consigliere comunale Angela Ventriglia e il delegato al forum dei giovani Lorenzo Forlano. La sfida lanciata ai 19 eletti è quella di coinvolgere i loro coetani e non solo per dare un contributo ad avvicinare le persone.